Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. In A1 segnaliamo che le notti di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì della prossima settimana sarà chiusa la stazione di Firenze Sud in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze in Pruneta. Per le stali sull'Aurelia segnaliamo corsia chiusa per lavori, tra il bivio per Rio Torto e Follonica Nord in direzione Roma. Ci spostiamo sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per cantieri tra Firenze-Certosa e San Casciano Nord in direzione di Siena. Muoversi in Toscana-Infeno servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!